Sono un ungherese per 5 a 0, siamo al diciottesimo del primo tempo quando si sviluppa questa azione per merito di Kranjar che crossa al centro, Krankel fa velo e arriva a Lilovic e segna il gol dell'1 a 0. 1 a 0 è il punteggio del primo tempo con cui il rapide Vienna va al riposo in vantaggio. Poi c'è l'espulsione del difensore ungherese Lacarios, c'erano comunque numerosi sostenitori a Vienna, sostenitori ungheresi, infatti in sottofondo sarà possibile di tanto in tanto sentire proprio l'incitamento alla formazione del Tata Bania. Eccolo proprio adesso in questo momento sente il Tata Bania incitato dai suoi sostenitori ungheresi mentre al tredicesimo l'azione del gol del raddoppio del rapide Vienna era Kinas, Kinas che inizia l'azione e poi al termine di questa azione va lui stesso a segnare dopo un bel triangolo doppio. Ecco il gol di Kinas, 2 a 0 al tredicesimo del secondo tempo per il rapide Vienna. Al diciassettesimo scende Brucic e serve Kranjar e poi il gol è di Krankel. Krankel è ancora il vecchio Krankel, vedete quanti capelli bianchi, assomiglia un po' a Pulici come capelli bianchi e come ancora voglia di spaccare le reti. 3 a 0 dopo il gol di Krankel, al ventiquattresimo, al ventesettesimo ancora una doppietta di Alilovic che così ottiene tre gol personali. Questo è il gol del 4 a 0 di Alilovic. E c'è ancora tempo, siamo al ventesettesimo per il terzo gol personale di Alilovic che fissa il punteggio sul 5 a 0 in favore del rapide Vienna sul Tatabagna. Gran gol e a d'or della giornata.